Ehi la ciurma! Io sono Mazzetest e ben ritrovati qui nel nostro famosissimo mondo di Maintest Ita! Ok, l'ho fatto un po' come l'Eterna, love come intro. Oggi in ascolto siamo qui con... Un piccione, sì. Rapidamente ho aggiunto qualche mod niente di che. Ho aggiunto, come potete vedere qua sotto, la mod che ho recensito, quella Hot Bars, sì che si chiamava qualcosa del genere. Comunque potete trovarla nei miei mod review, perché la trovo migliore, diciamo, perché capisci bene subito quanta vita hai senza problemi. Ho aggiunto un'altra versione dei letti, che dovrebbe essere meno buggata, cioè che ti sdrai effettivamente, non è che sei tipo mezz'aria come nelle altre. E ha anche questo modello di letto più sexy, diciamo, con la texture più carina, che è anche più bella di quella di Minecraft. Solo che... E' terribile perché è bassissimo, cioè sembra il letto di un nano, non lo so. Quindi quello che mi ispira di più è questo per ora. Però questo è più... cioè questo ha la texture più brutta, ma è più alto, questa è la texture più bella, ma è più bassa, boh. Non lo so. Però effettivamente se devono stare in un blocco di altezza, non è che potrebbero fare... Ma no, è più basso di un blocco di altezza. Perché l'hanno fatto così basso, allora? Metti almeno la spalliera fino alla fine del blocco? Boh. Assurdo. Altra mod appunto che ho aggiunto è questa qua degli item frame, che trovate, si chiama item frame, credo. E aggiunge, oltre a questi item frame che si craftano con un pezzo di paper circondato da otto stick. E sono molto comodi per aggiungerci gli oggetti, perché cliccando con il tasto destro si può mettere un oggetto, e cliccando con il sinistro si può togliere. E questo rende molto più ordinate le cose. Poi sono molto carini così da vedere. Vedi qua, c'è i materiali tecnologici, lingotti, preziosi, blocchi da costruzione e la cesta delle robe un po' avarie, diciamo, della natura. Ecco, diciamo così. Qua l'ho messa di oro, perché vi ricordate l'altra volta era troppo piena. Per evitare di doverli spostare tutti a mano, ho messo uno stackwise filter injector, che trasferisce in una cesta intermedia, e poi l'ho fatto ripassare di qua verso la cesta d'oro che avevo piazzato là a quel posto, in modo da non fare troppi casini. Quindi, oltre a quello, ho messo anche due item frame qua. Ho messo una lana colorata, perché ho messo anche la lana colorata qua, per dare un pochettino più di colore, perché altrimenti con la bianca stava malissimo, bianco su bianco. Qua ho messo un pezzo di pane. L'altro oggetto che viene aggiunto da quella mod, che è strabellissimo, cioè GG, proprio complimenti ai creatori della mod, è questo piedistallo qua, che si chiama pedestal. Ah, come vedete là c'è scritto owned by single player, perché sono oggetti su cui si può interagire solo il proprietario. Quindi chi l'ha piazzato. Qua li ho piazzati io, e sono in single player, quindi l'ho indeciso come single player. E si può mettere un oggetto sopra che ruota. Cioè, è tipo troppo... Wow! Bellissimo! Qua sotto ho messo il blocco di cobblestone, mi sembra stracarino. Davvero strastrafatto bene. Bom, progetti del giorno. Dopo praticamente 4 minuti che si parla. Oggi faremo la farm automatica di legno, di cui avevamo parlato l'altra volta. Qua ho dato un pochettino i collegamenti, in modo da essere più sicuro che prendano tutto. E ho anche un po' citato, tra virgolette, cioè ho modificato la mod, quella della Pipeworks, in modo che gli adjustable vacuuming pneumatic tube segment possano avere un range anche maggiore di 8. Perché finora era bloccato fino a 8. Io quello là l'ho messo a 10, che forse è un po' troppo forte come raggio. Però è per essere sicuro che non vadano persi dei sapling o dei pezzi di legno o... non lo so. Insomma, per essere sicuro. L'unica cosa è che ho provato prima con quello là da 10. Se vado qua sotto e tolgo il blocco di cobblestone dal pillarino, viene assorbito dal tubo là in fondo. Quindi è forse troppo P, troppo P con 10. Però vabbè, per ora lo lasciamo così. Un po' di massimo si può comunque configurare sempre. Costano abbastanza, infatti è praticamente finito il mese. Tra queste, quelle, ho dovuto costruire anche il resto delle cose. Come potete vedere tutti gli alberi sono cresciuti, nonostante avessero i blocchi davanti. Quindi vuol dire che la nostra farm può funzionare. Ho già tutto nell'inventare, quindi direi che possiamo partire immediatamente. Allora, iniziamo col togliere sta roba qua che non ci serve. E sostituire il tutto con dei node breaker. Che mettiamo... nooo, vanno messi dall'altro lato. Vediamo se così me lo mette giusto. Sì. Ok, adesso non si riesce più a mettere un kaise di niente. Vediamo se... Nooo. Mi ha fregato. Così, no. E niente, devo fare per forza un pillarino. Vediamo se così lo mette... no, lo mette su. Però se scendo di un blocco è sempre un po' un casino posizionare nel modo più accurato possibile. Ok, no. Questo devo toglierlo. Quando arriviamo a 5 dovrebbe essere a posto. Quindi forse questo è l'ultimo. Sì, perché ce ne rimangono giusto 20. Quindi, tu, tu, tu. Ok, torniamo giù. E abbiamo là i nostri 5 node breaker. Qua dovremo posizionare allo stesso modo gli altri 5 e per ora farò un solo layer, diciamo. Cioè, solo in questa direzione qua. Dopo penserò anche agli altri. Per ora non abbiamo abbastanza mese per fare tutte e due le file. E forse con una fila singola è comunque sufficiente per... ...pare il nostro sostentamento. In fondo con tutto il legno che produrrà qua in automatico dovrebbe essere sufficiente, insomma. Tanto non è che noi consumiamo particolarmente. Potremmo magari fare dei generatori che vanno a legno e che non sarebbe assolutamente per niente male. Però, insomma, adesso ci ragioneremo un po'. Adesso vediamo. Magari per fare un query, con l'obiettivo di fare un query, più avanti. Lo sai, Marco, che anche in Mindtest ci sono i query. Marco sta facendo una serie su Minecraft moddato. Sei già arrivato al query? A registrare? Non ancora. Ok, non ancora. No. Però dicevi che comunque i diamanti ce l'hai? Sì. Eh, qua lo scomodo è che forse non servono i diamanti. È un orrore. Perché qua in Mindtest il problema è che hanno aggiunto i diamanti, ma non c'è praticamente niente a cui servono i diamanti. Sono tipo loro in Minecraft. Hai presente loro in Minecraft? Che non serve a un cavolo di nulla? Cioè, le Power Red Rail. Non è vero, con le mod. Alle mod sì, ma nel Minecraft vanilla non serve a un Kaiser, a parte le Power Red Rail. No? Magari fai lo sborone con... Con loro, però, cioè, per le armi, per le armature, vai tutto di diamanti. Loro non... Dura poco l'oro, meno del ferro. Sì, infatti. High Voltage Query, vediamo. Ah no, servono i diamanti. Diamond Drill Head. Sì, sì, servono un po' di diamanti, ma... Niente di che, in realtà. Qua adesso andiamo a piazzare anche questo. Togliamo quest'altro legno. Spero che voi ci vediate, perché è un po' buio, essendo notte. E YouTube sappiamo tutti come carichi i video ancora più bui di quanto non lo siano già realmente. Però, boh. Speriamo che si veda abbastanza. Tra l'altro sto registrando di nuovo con Action, perché ho avuto dei problemi con... con OBS. Non so se avete visto la serie di Spore. Mi ha fatto un sacco di glitch grafici... nella registrazione. E... allo stesso modo ha fatto dei problemi anche con l'audio, nel video che abbiamo registrato con... con Marco88 di Saints Row. L'audio di Marco non si sente praticamente per niente. C'è proprio... c'è proprio boh. Vero Marco? Boh. Già. È però un peccato, perché... Scusami. Con OBS mi trovo davvero bene. Dimmi. Sto facendo le peggio cose con... Got Simulator. L'hai preso? Ce l'avevo da un bel pezzo. Che giochino del Kaiser. Io quei giochini là non... non riesco a trovarci niente di che, in realtà. Perché alla fin fine è tipo... quello, oppure I am Brad... o anche... com'è che si chiama l'altro? Sergeant Simulator? Non è che... sia poi chissà che cosa, eh? No. Sono poi così... scemi come Roby. Allora, vorrei... vedere... qua. Wood. Abbiamo bisogno del nome del Wood. Come si chiama il Wood? Tecnicamente proprio Wood. Oak Wood. Dov'è Oak Wood? Oak Wood? No, non c'è. Perché non c'è? Oak. Forse è Oak? No, perché non è quello normale Oak. È qua in... Tree? Ah, ok. Si chiama Tree e... Basta. Alternate, alternate, alternate. Ah, ok, vabbè. Default 2.3. Allora, vediamo se... Default 2.3. Vediamo se io gli metto... questo. Lo riconosci? Sì, come faccio a vederlo? Se lo riconoscio o meno. Se ce l'ha davanti. Ah, ok. Mettiamo il segnale dietro. Vediamo se lo attiva? Sì, lo attiva. Se glielo tolgo? Ok, perfetto. Allora, sotto c'è il deployer. Qua dobbiamo mettere il segnale di Masecon che vada su, 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 su. Così che se per caso io metto... Blocco di legno qua... E cosa fa? Mi attiva tutto. Vero? Non mi pare abbia attivato l'ultimo, forse. E non è buono. Come faccio a cliccare là sopra? Così? No, che caisse l'ha fatto? Però non ho visto attivi gli ultimi, effettivamente. Riproviamo un attimo. No, infatti gli ultimi due non li ho visti attivi. Non so per quale strana ragione. Ma vediamo di risolvere la situazione. Così facendo dovrebbero attivarsi tutti e cinque. E quindi... Nessun problema. Allora, così. Già che ci sono lo metto anche là. Poi qua scendiamo. Ok, buono. Sì, forse non raccoglierà particolarmente tante foglie in questo modo. Perché alla fin fine ci basta il mese con... Non lo so. No, di sicuro no perché ci sono da fare anche gli altri sotto. Ma magari adesso ne faremo uno e poi per gli altri... Si vedrà in un secondo momento. Cioè me lo faccio magari off camera. Perché dicevo c'è da mettere sotto i... Un delayer che tra l'altro dovrei avere... No, non ho abbastanza mesi. Sì, dei delayer ce l'ho. Per poi attivare anche il deployer sotto che piazzi il sapling una volta che venga... Fatto il... Che venga... Arrestato l'albero in pratica. Allora qua non abbiamo praticamente più mese. Cuociamo due cristalli. Ce ne rimangono sette. Dovrò andare a scavare in miniera. Beh così inaugurerò il... Il sistema di... Trattamento minerali automatico. Marco abbiamo fatto su Maintest un bel trattamento minerale automatico. Wow. In cui vai in miniera tu poi torni e metti tutto in una cesta. E lui... Polverizza diciamo per dirlo in termine minecraftiano. Tutti i minerali. Li cuoce. E li mette in blocchi. E poi dopo li teletrasporta nella base. Addirittura? Sì. Sì ci sono dei tubi qua che... I teleporter tube. Che in pratica teletrasportano alla base gli oggetti. Cioè alla base. Dove gli dici tu? Gli dici vuoi trasportarlo che ne so io a Canica T e lui te lo trasporta a Canica T. Allora facciamo che qua lo facciamo scendere. Dov'è che è il... Ok. Allora dobbiamo mettere il delayer. Però il delayer è dritto in un verso. Ecco infatti qua il verso sbagliato. Io non capisco perché ci sono degli oggetti che vogliono sempre posizionarsi nel modo sbagliato. Nel modo scorretto. Ecco del delayer. No, non così. Se mi metto così... Continua ad essere sbagliato. Se mi metto così... Oh! Alleluia. È dritto. Lo mettiamo a... Un secondo di ritardo. E poi facciamo così. Good. Very, very good. Perfect. Qua sarà un po' un problema perché si rischia di cadere giù sotto. Ma puoi risalire? No, naturalmente non puoi risalire. Magari ci sarà da mettere delle fence attorno. Non lo so. Perché sennò uno cade effettivamente là. Ci si penserà. Ci si penserà. Basterà solo far così. Ecco così uno non cade. Buonanotte. È secchio. E... Buon. Ora. Qua c'è da cambiare un attimo. Toglierei innanzitutto il trash can. Qua. Distrugge tutta la roba. Prendiamo qua i sapling. Legno. Foglie e mele. Quante mele abbiamo? Abbiamo un sacco di mele. Marco vuoi delle mele? Certo. Ti piacciono le mele? Sì. Anche a me. Buone. Ehm... Allora. Innanzitutto. Qua continuerà a droppare roba. Ehm... Dobbiamo fare... Una sorta di 50-50 per i sapling. Cioè che possono andare o qua dentro. Nella copper chest che credo sia sufficiente. E' andato dentro? No. Cosa? Kaiser... Perché non è entrato? Forse il blu è disattivato. Infatti. Ah no. Perché le foglie devono andare nel bianco. Ma il bianco non c'è. Togliamo sta roba. Oh. Ok. E' entrato. Allora. Le foglie io le metterei in un autocrafter. Così ci fa direttamente la plastica. Perché? Non so come mai. Ma qua la plastica si fa con le foglie. Allora. Un sapling. I sapling però dovranno avere un 50-50. Di andare o là. Il rosso lo disattiviamo. Il blu è attivo. L'altro è disattivo. Il nero... No. Il nero lo dovrò attivare. Perché il nero è dall'altra parte del rosso. Come sempre. Quindi. Mettiamo dei tube qua sotto. Che dovranno andare sotto. Ad alimentare i vari deployer. Quindi. Dovrà scendere in giù. Stambara da. Così. Se noi non lasciamo indicato niente. Il tubo avrà 50-50. Come succede anche in Minecraft. Vero Marco? Eh sì. Dove se non indichi un cavolo di nulla. L'oggetto avrà 50% di possibilità di andare in una parte. E il 50% di andare dall'altra. Quindi così noi speriamo che. Di avere un discreto numero di. Sapling. Però che allo stesso tempo vengano piantati. Perché altrimenti siamo nei guai se non vengono piantati. Perché poi non sostituiscono quelli che vengono eliminati in pratica. Oddio. Ho distrutto qualcosa qua. LOL. E non ho abbastanza tubi. Però. Eh. Qua abbiamo quasi terminato il tutto. Quindi io direi che sistemiamo questo. Perfetto. Qua mettiamo in codesta maniera. Non abbiamo altri tubi. Però. Io direi che. Per questo giro può essere abbastanza. Anche perché. Comunque quello che andava fatto è. Stato fatto. Sono tutti e cinque. Sembra che me ne manchi uno. Dove? Ah sì infatti è quello là. Era semplicemente un blocco più in là. Detto questo ragazzi. La nostra farm dovrebbe essere abbastanza funzionante. Perché qua ora. I sapling verranno portati anche là sotto. Quindi verranno piantati. Ora bisognerebbe metterne uno là sotto. No. Bisognerebbe mettere un sapling qua. Più che altro. E poi metterne qualche uno là sotto. E dovrebbe tutto funzionare. Adesso facciamo un piccolo esperimento. Ci arrivo. Ci arrivo. Non ci arrivo. Dannazione. Sì forse potremmo lasciarlo un camminamento qua sotto. Giusto per. In caso di. In caso di casa. Ecco. Mettiamo. 20 sapling. E 20 sapling sia. Tanto se per caso dovessero mancare uno. Gli altri ce l'hanno comunque. Quindi. Non dovrebbero esserci problemi. Mettiamo lo sapling qui. E. LOL. Non gli ho detto che deve essere. Default. Tree. Ehi. Non l'ha preso. Default. Tree. L'ho l'ho lì 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 lì. Mi l'ho lì 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 lì. LOL. Ok. Ora non dovrebbe romperlo. Quando crescerà sarà a posto. Detto questo. Per questo episodio. Quando. E. È tutto. Io spero che questo tipo di farvi sia piaciuto. Possa esservi utile. Vedremo il funzionamento completo. La prossima settimana. Io vi saluto. Vi invito a lasciare un mi piace. A iscrivervi al canale. Se per caso non l'aveste già fatto. E. Anche un commento. Per. Dirmi se per caso. Voi avevate pensato qualcosa di differente. So che si poteva fare anche con la chainsaw. Della tecnica. Ma era un pochettino più complesso. E. Niente. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.